zeppoline di pasta cresciuta con salame d'olive non so che dire fatele con me iniziamo per prima cosa taglio le olive a rondelle poi taglio il salame a striscioline metto l'acqua in un contenitore metto il lievito e lo sciolgo nell'acqua poi metto la farina mescolo metto il sale aggiungo salame d'olive impasto per 7 8 minuti con il cucchiaio oppure con le mani copro e faccio lievitare per almeno 4 5 ore poi mi bagno i polpastrelli con dell'olio stacco dei pezzetti dall'impasto e frigo in abbondante olio di semi di arachidi bollente ci vorranno un paio di minuti per lato affinché diventino belle dorate poi le tolgo facendole sgocciolare e mettendole su un colafritto ed eccole qui guardate che belle buonissime cozze gratinate stavolta ci ho messo anche le uova volete farle con me iniziamo dopo averle lavate metto le cozze in una padella già calda copro ed attendo un paio di minuti che si aprano volendo si possono anche aprire crude una volta aperte filtro il loro liquido in un contenitore aggiungo il pane in cassetta il parmigiano il prezzemolo le uova il sale il pepe il vino bianco e mescolo se il composto è troppo morbido aggiungo del pangrattato e continuo a mescolare ora copro le cozze con il composto aiutandomi con un cucchiaino ed una volta fatte tutte le faccio cuocere in forno statico già caldo per 5-6 minuti a 250 gradi poi qualche minuto sotto al grill ed eccole qui filo d'olio e prezzemolo e che spettacolo mamma mia buon appetito questo polpo all'insalata lo adorerai prova a farlo con me per prima cosa nell'acqua bollente mettono all'oro aggiungo il sedano le carote poi metto il polpo che ho pulito e lavato per bene facendogli fare le classiche quattro calate per far arricciare i tentacoli e lo faccio cuocere per 35-40 minuti dopodiché spengo e lascio raffreddare per un'ora lasciando il polpo nell'acqua nel frattempo faccio una specie di citronette quindi nel bicchiere del mini pimer metto il succo di limone i gambetti di prezzemolo il pepe nero l'olio extravergine di oliva un po di acqua del polpo l'aglio frullo tutto e poi setaccio per rimuovere i filamenti dei gambetti di prezzemolo a questo punto taglio a pezzettoni il polpo lo metto in un contenitore aggiungo la citronette mescolo bene metto il prezzemolo ultima mescolata e metto in frigorifero per qualche ora ad insaporire guardate qua che spettacolo tenerissimo e saporito mamma mia le polpette di nonna al sugo quelle filanti quanti ricordi e che sapore fatele con me iniziamo per prima cosa metto la mollica di pane in un piatto poi la bagno con vino bianco ed acqua mescolo poi la strizzo e la metto in un contenitore a questo punto aggiungo il macinato di maiale il macinato di vitello le uova il prezzemolo l'aglio il sale il pepe il parmigiano e mescolo con le mani poi stacco un po di composto lo appiattisco sulle mani e metto la scamorza chiudo e formo la polpetta ed una volta fatte tutte le passo nella farina poi metto l'olio in padella la cipolla l'aglio faccio rosolare poi metto il basilico subito dopo la passata di pomodoro regolo di sale e faccio cuocere per 20 minuti a questo punto frigo le polpette 4-5 minuti per lato poi le passo nella salsa di pomodoro e le faccio cuocere per 15 minuti girandole a metà cottura poi le impiatto e guardate qui come filano sono favolose